Arena l'undicesimo concorrente in gara, numero di testiera 381. Michael Younger Schubert e Charlie School Running, cavallo di sua proprietà. Al cancello la testiera 408, draw number 11, back number 381, followed by number 408. Al cancello la testiera 41. Al cancello la testiera 41. Al cancello la testiera 41. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.